via benvenuti nella nuova terapia ho sbagliato apparente troviamo Iwana che è un mogre questa che sta al bar puoi evitare questa posizione adesso non ti ha visto ma che devo fare ma io pensavo che non devi parlare comunque l'ho continuato il video tanto poi alla fine c'è io? si si ci sei ah tu dici il mio cornicio è nato sul lavoro e tu dici meno lunga Sherlod io sto riprendendo tutto nel caso vi aspettiamo ad Ancona